Grazie La pulizia è uno dei temi di maggiore rilevanza per la regione perché è una delle evidenze in cui tutti i giorni i pendolari e gli utenti richiamano la nostra attenzione. Devo dire che Trenitalia sta manifestando un grande impegno per dare risposta a tutte queste esigenze e richieste e anche le aziende che sono subentrate a seguito del cambio dell'appalto manifestano un grande impegno. Ho avuto personalmente modo di visitare anche i cantieri di pulizia, ci sono dotati di strumenti, di macchinari, di attrezzature molto moderne che facilitano e aiutano nella pulizia dei convogli. Aiuta anche il revamping che abbiamo messo in atto nel 2011 e che si sta completando di tutto il materiale rotabile, quindi con la sostituzione di tutte le sedute, con la pellicolatura dei vetri, con il rifacimento dei pianali che aiuta la pulizia e oggi presentiamo questo piano, questo lavoro, evidenziamo questo lavoro che Trenitalia assieme alle due aziende che gestiscono le pulizie stanno portando avanti. Ma vogliamo evidenziare anche un altro aspetto su cui si vuole un impegno civico da parte di tutti, che sono le vandalizzazioni, i graffiti, tutti i danni che vengono arrecati ai treni e che nel corso del 2011 sono costate all'azienda ben un milione e mezzo di euro, quindi una cifra molto consistente che crediamo vada assolutamente ridotta e vada assolutamente risparmiata. Quindi un invito a tutti a vigilare, a manifestare quel senso civico che porti a una riduzione, se non addirittura a un alzeramento di questi atti che penalizzano molto la circolazione, penalizzano molto gli utenti, i pendolari, i passeggeri perché poi incide sul decoro, incide sulla vivibilità dei treni. Grazie.